Due giorni fa, la mia vita era semplice e bellissima. Ora è un incubo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Tu chi sei? Il mio nome è Sarah Connor. Non ho mai visto una come te, prima d'ora. Quasi umana. Io sono umana. Perché ti importa cosa le succede? Perché io ero lei. Come vinciamo? Vinciamo tenendoti in vita. I'm going hunting. I'm going hunting. I'm a hunter. I'm a hunter. Grazie.